Grazie mille, anzitutto devo ringraziare gli organizzatori per avermi invitato, per avermi invitato tutti. L'azienda per cui lavoro fra l'altro è una delle due che è stata invitata in un convegno così particolarmente rivolto alle istituzioni, lo ritengo un prestigio importante. Allora, noi siamo un laboratorio olfattometrico attivo dal 1997, quindi di esperienza ce n'è, siamo anche accreditati da molti anni, quindi anche da quel punto di vista lì siamo partiti da molto tempo. Allora, io mi concentrerò oggi soprattutto sugli aspetti che riguardano il metodo normato, cioè do un po' per acquisiti o per conosciuti tutti gli aspetti generali che riguardano l'incertezza di misura, cioè non parlo da Adamo e Deo, insomma, perché se no mi ci volevano otto ore. È evidente che però se ci sono degli aspetti di cui avresti curiosità per capire quali sono i collegamenti con i principi generali, chiedete pure non ci sono problemi. Allora, la norma della Uni Entry 1375 nel 2004 in realtà non parla espressamente di incertezza di misura, però ha in questi due paragrafi due requisiti che assomigliano molto a delle incertezze di misura, e poi adesso vedremo meglio che in realtà non lo sono, ma sono utili per quella valutazione. Questi requisiti riguardano evidentemente i criteri di qualità per le prestazioni sull'odorante di riferimento, il nome al butanolo, e i requisiti sulle prestazioni sui campioni ambientali. Vedete bene che nel primo caso, siccome appunto la soglia olfattiva del normal butanolo è prescritta, stabilita, c'è un valore di consenso su questo argomento, sui campioni ambientali evidentemente non è possibile fare delle valutazioni sullo scostamento, sul bias, insomma, e quindi in realtà c'è un parametro che riguarda solo la ripetibilità e non la riproducibilità. In particolare, siccome li vedremo dopo, sulla norma, sono definiti il parametro di W, che è appunto lo scostamento della media delle soglie dell'esaminatore rispetto al valore atteso, valore vero, che è μ, e AUD, che è una specie di somma di una componente, di questo di W, preso in assoluto, e della R, per cui la AUD somma una componente del bias e una componente di ripetibilità. Dove appunto la R è il ben noto limite di ripetibilità che è dato dalla T di student per la radice di 2 per lo scarto tipo delle soglie degli esaminatori. Tutte queste grandezze che vedete qua sono tutte in termini logaritmici, perché la norma prevede questo requisito che è molto banalmente dovuto al fatto che il metodo stesso prevede che le presentazioni dei campioni di audore agli esaminatori vengono fatte per un step con un fattore di riduzione fisso e quindi per forza di cose la distribuzione statistica dei risultati è log normale. Questo non c'entra a nulla con il discorso dell'intensità, con l'accezione, non c'entra a niente. Dipende dal fatto che gli olfatometri, come dice la norma, funzionano così, cioè gli step di riduzione sono fissi e appunto sono moltiplicativi. Non so se ho reso l'idea perché non è una cosa così così ovvia per chi non abbia mai visto queste misure. Appunto, come dicevo prima, per i campioni ambientali è definito solo il parametro di precisione e non quello di esattezza o giustezza. La norma, come spiegherò meglio dopo, i motivi per cui esiste questa regola, vieta la correzione per il bias, cioè a differenza di qualunque altra analisi chimica comune dove si presume che il bias debba essere annullato via correzione sul sistema di misura, per il fattometrio non è così, non è così per le ragioni che vi dirò dopo. O meglio, non deve essere così, cioè è proprio vietata la correzione sul bias, che è il motivo per cui in realtà c'è questa anomalia del fatto che il bias entri nel calcolo del parametro di qualità delle prestazioni del sistema di misura, che è quel dvdoppio, insomma. Una cosa che non vi ho detto, non l'ho neanche scritta, mi sono dimenticato di scriverla, la norma nella versione attuale prevede che i dati per ottenere questi risultati possono essere raccolti anche semplicemente in una sessione di misura appositamente fatta con almeno da 10 a 20 misure, eccetera, eccetera. Però per forza di cose quasi tutti i laboratori che lo sappia fanno così, siccome esiste anche il criterio, il requisito parallelo per la taratura periodica degli esaminatori, che invece per forza richiede un monitoraggio più continuo della risposta degli esaminatori, gioco forza, in realtà questi parametri, tutti i laboratori li determinano in modo continuativo, per cui questi A, O, D e R sono parametri storicizzati di cui c'è tutto uno storico. Sì, allora, come dicevo, dvdoppia è la differenza fra la media delle risposte sui... Allora, passo prima. Mentre per la taratura degli esaminatori, cioè per le verifere di conformità del singolo esaminatore, si considera la risposta del singolo esaminatore, membro del gruppo di prova, qui stiamo ragionando come la risposta del gruppo di prova, come la solita media geometrica che avete visto prima, cioè come concepressione di odore, sostanzialmente. La media delle COD, sostanzialmente, del mio gruppo di 10 o 20, cioè da 10 o 20 prove sul malbutanolo, è quella yvdoppia segnata. Il mu è il valore vero, diciamo così, il valore di consenso, che semplicemente se io sto ragionando come concepressione di odore, è la concepressione di odore della mia bombola, oppure è la stessa cosa. Se ragiono con le soglie olfattive, il mio mu sarà 40ppb e la yvdoppia sarà la media delle soglie. È uguale, non cambia niente. Per cui il circosto dvdoppia è lo scostamento, è il bias, sostanzialmente. La od è il parametro di accuratezza, lo chiama la 13725, forse non è esattamente il termine corretto, ma evitiamo queste discussioni terminologiche, sta di fatto che è la somma dell'assoluto del modulo della dvdoppia e di un parametro avdoppia moltiplicato per r, dove r è il limite di ripetibilità e la vdoppia è semplicemente un parametro statistico che dipende dal numero di misure, cioè 10, 15, 20, che sono parte del campione. La sr è un scartotipo dei risultati come abbiamo visto prima e la r l'ho già detto prima. Il metodo prevede che il limite di ripetibilità debba essere minore di quel 0,477. La norma definisce lo stesso valore massimo del limite di ripetibilità sia sull'omano buttanolo, sia sui campioni ambientali. Evidentemente la differenza è che sui campioni ambientali si fanno effettivamente sempre, tutti i laboratori fanno così, credo, si preleva un campione e lo si analizza dieci volte sostanzialmente, mentre l'R definito sul malbutanolo generalmente tutti i laboratori, cioè non fanno dieci buttanoli in fila, ma è lo storico delle ultime dieci o venti misurazioni fatte dal laboratorio. Non so se ho risposto alla domanda. È il valore del laboratorio, cioè ogni laboratorio deve calcolarsi. È tutto in logaritmi, cioè tutte le y mu, sono tutti logaritmi, per cui la differenza forse assoluta è relativa. Allora, ecco, come dicevo prima, in realtà, come vedete bene, in maniera massima quando parliamo delle prove fatte sull'omano buttanolo, ma in realtà anche sui campioni ambientali capite bene che di questa qua è una delle componenti dell'incertezza, cioè è quella che è associata solo alle risposte degli esaminatori, che è sicuramente il sensore, d'accordo, è molto probabilmente la componente principale, però è una forse tutta dire che sia l'unica componente dell'incertezza. Però la complicazione, se volete, deriva dal fatto, cioè una delle complicazioni che crea confusione nel mondo dei laboratori fotometrici, è che in realtà nel parametro R compare la T di Student, per cui in realtà questa Audi come accuratezza è una specie di incertezza estesa, però è una incertezza estesa basata su una sola componente dell'incertezza. Questo evidentemente crea un po' confusione sul mercato, diciamo così. Però dal punto di vista matematico non c'è dubbio, è così. Allora, il fatto di ragionare sull'agritmi, cioè che tutte le formule che avete visto sono sull'agritmi, fa in modo che bisogna essere accorti sul fatto che mentre tutto può essere simmetrico nel campo dei logaritmi, a parte il fatto che ovviamente questo bias ineliminabile comunque fa in modo che l'intervallo di copertura in realtà non sia simmetrico intorno al valore misurato, ma non intorno al valore vero, diciamo così. Però evidentemente quando passo negli antilogaritmi l'intervallo diventa per forza simmetrico, per cui in realtà tende a essere più ampio verso i numeri grandi. di qua, voi lo vedete, glielo vengono a vedere. Tena l'estero è appunto più grande verso i numeri maggiori. Ci sono domande, cioè se non è chiaro, fermatemi, io cerco di essere più chiaro fin dove posso. Allora, una cosa essenziale è questa, che a differenza di un sistema strumentale dove il mill bias è annullabile mediante controllo sul sistema di misura, cioè correzione sul sistema di misura, io non posso portare una correzione al naso delle persone, nel senso che non è possibile. In più, altra cosa drammatica nel campo dell'olfotometria, è che in realtà tutti noi, anche se non ci siamo mai accorti, abbiamo delle sensibilità di una soglia olfattiva che è un po' diversa da un giorno con l'altro, cioè noi stessi da un giorno con l'altro abbiamo soglie leggermente diverse. E quindi questo bias è intrinsecamente fluttuante. È chiaro che in realtà facendo una composizione del panel accorta, cioè cercando di prendere esaminatori che abbiano una soglia un pochettino, cioè se ho, che so, quattro esaminatori, ne prendo due con una soglia maggiore di 40 e due minore di 40, per esempio. Così cerco di contenere questo bias. Questo è un metodo consono, opportuno, però consente di minimizzare il bias, ma non consente di annullarlo. Questa è una cosa importante. Come dicevo prima, però, finora stiamo parlando del contributo all'incertezza che riguarda solo la taratura del panel, nell'intesa anche come componenti che riguarda la ripetibilità sul butanolo, ma comunque è una sola delle componenti. Altre due che sono da considerare sicuramente perché sono comunque in altra forma citata nella norma, sono l'incertezza di diluzione, semplificando la taratura dell'olfattometro, e l'incertezza di certificazione della bombola di butanolo. La seconda è effettivamente piccola, per cui può generalmente essere trascurata. La prima non è detto che sia piccola, per cui in realtà dare per ovvio che sia trascurabile rispetto alla componente della taratura del panel è un'assunzione un pochettino debole, cioè va comunque sostanziata questa assunzione, se la si fa. Ecco, come dicevo prima, tipicamente nella pratica dei laboratori, almeno nel laboratorio di Miamama, penso di molti altri, quando si fa la verifica, secondo il paragrafo 533, che è richiesta come minimo una volta all'anno, la si fa su uno stesso campione, o 10 campioni presi nella stessa emissione, consecutivamente, quindi sostanzialmente lo stesso campione, e quindi è una ripetibilità stretta, diciamo così. Nel caso della prova sul butanolo è una ripetibilità fatta in verità nella pratica dei laboratori comuni, diciamo, per prassi, usando diversi esaminatori. Quindi non è più una ripetibilità stretta, ma è una precisione intermedia, secondo il vocabolario del VIM, insomma. Questo fa in modo che nella pratica, in realtà, molto spesso, la R fatta sui campioni ambientali, quella sotto, sia più bassa della R fatta sul butanolo. Questo per dire che, in realtà, se noi ci stiamo domandando, se questa mia incertezza include anche il, cioè, un'eventuale valutazione dell'incertezza di misura in orfatometria fatta solo su questi aspetti, include anche l'incertezza del campionamento, sicuramente no. Nel senso che, anche se io ho fatto la prova, la verifica sulle ripetibilità del campione ambientale, quella non è incertezza di campionamento, perché è come se avessi fatto lo stesso campione. Ok. Se mi domando, ok, ho uno dei contributi dell'incertezza, devo sommarlo agli altri, qui non c'è niente da inventare, c'è la regola della guida sull'incertezza di misura, cioè le incertezze si compongono generalmente con questa formula. La complicazione del caso nostro è che, a fronte di un contributo sicuramente è asimmetrico, se lo ragiono in O, o emetro cubo, che è quello che deriva dalla taratura degli esaminatori, le altre componenti sono spesso simmetriche, cioè se io ho un'incertezza, per esempio, se la volessi sommare l'incertezza di certificazione della bombola, quella invece è simmetrica, non è asimmetrica. E quindi, devo decidere come fare questa composizione. l'opzione 0 l'ho chiamata io, quella simplicistica è ok, traspuro quali simmetriche, l'opzione 1 è simmetrizzare quali simmetriche, scusate il gioco di parole, e l'opzione 2 è asimmetrizzare quali simmetriche. se vi siete persi vi capisco benissimo, ma devo cercare. Allora, però, prima di vedere come probabilmente la revisione della norma che è in progetto cercherà di approcciare questo problema in modo un po' più strutturato, vediamo un po' qualche ordine di grandezza per capire quali sono dei valori verosimili per queste grandezze. Allora, c'è da considerare che la UNIENT di 1725-2004 ammette che alle prove o fotometriche possano partecipare membri del gruppo di prova con delle soglie medie sul normalbutanolo compreso fra la metà e il doppio del valore vero. Cioè, se il valore vero di riferimento è 40 ppb le soglie di esegno che possono andare da 20 a 80. Questo in pratica comporta che la norma ammetta un bias dalla metà al doppio. Ok? È il criterio del fattore 2. Ora, siamo tutti d'accordo che in realtà siccome le concelzioni di odore sono date dalla media delle soglie degli esaminatori in realtà il mio bias medio sarà un po' più piccolo di così. Però, teniamo presente che appunto per la norma così com'è sarebbe ammissibile che ad un gruppo di prova partecipassero 8 esaminatori con un soglie affattivo pari a 79. Ok? Quindi vuol dire che ha una sensibilità pari alla metà di quella di riferimento. Quindi, se sicuramente una sottostima pari a circa la metà. Consideriamo anche che il parametro R minore di 0 477 come abbiamo visto prima comporta sostanzialmente è sufficiente fare 10 elevato a quel numero lì per ottenere 3. Cioè, la ripetibilità sullo stesso la ripetibilità stretta può essere entro un fattore 3. Cioè, è ammissibile che una replica secondo la norma è ammissibile che una replica di prova su un sasso campione possa portare a conciugazione di odore entro un fattore 3 una dall'altra. Questo è per avere un'idea di quello che chiede la norma che tutto sommato vedete bene che sono intervalli molto ampi dopodiché è ovvio che ogni laboratorio avrà cercato di restringere nel tempo subito questi criteri però c'è la norma e ammette fino a questi intervalli di copertura diciamo così. Volendo vedere qualche dato vero diciamo così l'ultimo professionist test quello di cui ha parlato anche l'ARPA Puglia prima vedete bene che i PPB io non so se dalla fraccina no ecco allora vedete bene che dei due gruppi di campioni ora non vi spiego bene come funzionava sta cosa ma fidatevi dei due gruppi di campioni che hanno partecipato che non sono stati mandati ai laboratori ce n'era uno che è stato valutato come media dei laboratori avere una ridico dalle concessioni di odore date dai laboratori all'organizzatore l'organizzatore ha calcolato che la media delle soglie olfattive del panel dei vari laboratori era per un campione 36 per l'altro per un 44 per cui già vedete che un 10% ce lo portiamo a casa solo e sto parlando di prove fatte su campioni di botanolo in un test quindi per chiunque abbia esperienza di laboratorio sa che quando si partecipa ad un test è tutto perfetto bellissimo sto facendo tutto al meglio possibile quindi 10% già ce lo portiamo a casa in più il parametro che vedete della standard deviation sui 30 partecipanti che erano in compliance su entrambi i parametri è comunque di un valore pari a 0,092 o 0,080 il che vuol dire come antilogaritmi un altro circa 20% ok questi sono i risultati è tutto il grafico di risultati mandati dall'organizzatore sono i laboratori sulle ascisse vedete i laboratori sull'ordinata vedete in nero il parametro il pilon vidoppia insomma sostanzialmente mentre i pallini rossi sotto sono il parametro ma lasciatolo perdere fa solo confusione secondo me se vi concentrate sulla parte nera vedete che si c'è un gruppo significativo di laboratori che è più o meno che ha un bias piccolo però vedete che in termini di finestrella diciamo così di DR di ripetibilità non è poi così piccolo per cui in realtà si c'è qualche laboratorio molto bravo però la maggior parte dei laboratori vedete che comunque sia un bias anche se ha un bias molto piccolo le concentrazioni risultanti sono in termini logaritmici da 1,50 fino a 1,6 o 1,7 il che vuol dire che comunque sia un intervalo grande intorno alla media io vi ho fatto vedere questi risultati per darvi confidenza del fatto che in olfotometria pretendere di avere un'incertezza di misura minore del 20 30% è difficile cioè documentare delle performance maggiori di questo valore del genere è arduo difficile e ripeto ora stiamo parlando di qualcosa di più simile all'incertezza di misura ma date che invece lo scostamento massimo ammesso dalla norma è molto più ampio guardiamo avanti la norma come dovrebbe uscire quella futura allora c'è un nuovo paragrafo che è interamente dedicato dall'incertezza di misura che è una novità rilevante perché nella norma attuale non c'è un paragrafo che dice come si stima l'incertezza di misura adesso ci dovrebbe essere per per via per via di questa particolarità cioè del bias che non è annullabile si è optato per questa scelta un po' anomala se volete anche secondo me fondata il fatto che il bias entri nel calcolo dell'incertezza due volte come media dei bias va a semplicemente traselare l'intervallo e invece come scartotipo dei bias va a ampliare l'incertezza di misura non so se mi sono spiegato spero di sì per cui vedete che in realtà l'incertezza l'intervallo di copertura sarà espresso con un fattore che è costituito da una parte che è il bimedio appunto quindi la media dei bias e di una componente U appunto che è l'incertezza in senso stretto che avrà almeno quei tre componenti che appunto è la SB cioè lo scartotipo di bias la SIMP che vediamo dopo che cosa è e eventuali altre incertezze di tipo B che quindi come capite bene in realtà le sto assimmetrizzando cioè la scelta che dicevo prima nella norma futura sarà in termini di assimmetrizze le componenti simmetriche problema della trasferibilità allora abbiamo visto prima che in realtà il bias è sempre stato stimato per così dice la norma sulla base del non albutano soltanto cioè si assume questa è la funzione decisiva che c'era nella norma preesistente si assume che la soglia olfattiva degli esaminatori sul malbutanolo sia trasferibile agli altri composti cioè mi spiego meglio se un esaminatore ha una soglia sul malbutanolo entro quella finestra dovrebbe avere una soglia conforme entro una finestra diversa ma comunque una finestra anche per qualunque altro composto olorante nella pratica chi si è occupato negli anni scorsi di verificare sperimentalmente questo concetto di trasferibilità questo è più o meno vero cioè è abbastanza vero ma non è non è non è possibile dire che sia vero come come verità di fede diciamo così è anche ammesso che la si definisca una specie di verità di fede quando uno stima l'incertezza deve avere un sistema per numerizzare questo questo problema cioè che incertezza di misura mi comporta il fatto che in realtà io non ho garanzia della trasferibilità fra malbutanolo e altri odoranti cioè mi spiego il discorso è che nella pratica si è visto che un esaminatore che ha una soglia al malbutanolo nella finestra può avere però una soglia a altri odoranti deviante cioè può essere un po' meno sensibile della media o un po' più sensibile della media rispetto agli altri odoranti H2S ammoniaco quello che volete per cui in realtà la domanda che ci si è posta è abbiamo un sistema per cercare di inserire questa componente delle incertazioni di dura la proposta è un po' questa per cui si eseguono prove su uno stesso campione ma con due panel diversi tipicamente uno alla mattina e uno al pomeriggio perché avete visto che è la pratica quotidiana dei laboratori ma con panel diversi come se fossero campioni diversi e sostanzialmente si calcola la differenza fra questi due risultati se la trasferibilità se questo assioma sulla trasferibilità fosse vero e valido sempre in modo matematicamente inoppugnabile io dovrei spiegare le differenze di concentrazione di odore misurata fra due panel diversi semplicemente valutando qual è la soglia al normal brutanolo dei due panel cioè il panel della mattina che aveva una soglia media pari a 35 ok per esempio e quello del pomeriggio che aveva una soglia di 50 quello della mattina è un po' più sensibile mi aspetto che la crocezione di odore risultante dal panel della mattina sia maggiore e invece mi aspetto che il panel del pomeriggio meno sensibile mi abbia dato una crocezione di odore minore se questa attenzione fosse vera la differenza sui compiuni reali sarebbe pari alla differenza delle soglie sul normal brutanolo in realtà nella pratica non è così ok perché in realtà questa componente è una specie di è la differenza fra i residui cioè si calcola la differenza fra la concessione di odore corretta con il bias sul brutanolo e l'altra concessione di odore corretta con il bias sul brutanolo del secondo panel è un po' complicato se sono riuscito a dirlo decentemente sono contento ma termodino allora nell'annex che c'è adesso nel draft della norma c'è c'è questo esempio fatto evidentemente su numeri inventati anche se io personalmente nel mio laboratorio è già un anno e mezzo che sto documentando questi numeri per cui ho anche un minimo di confidenza su queste cose qua vedete che ci sono dieci giorni ho il il gruppo di esaminatori uno il gruppo di esaminatori due che sono in realtà diversi da un giorno con l'altro è semplicemente quello della mattina e quello del pomeriggio che hanno su bombole diverse perché in realtà quella lì vedete è la conoscenza di odore della misurata sulla bombola che ha un valore vero diciamo così per cui i parametri B1 e B2 sono i bias del panel sulla bombola cioè sull'albutanolo ho poi invece i campioni areali per cui io ho gli stessi esaminatori allo stesso gruppo di prova alla mattina e al pomeriggio oltre all'albutanolo e gli faccio sentire anche un campione ambientale lo stesso alla mattina e al pomeriggio e ho appunto queste due coppie cioè queste coppie di risultati che ha una differenza di uno con l'altro qui invece vedete la differenza cioè questi parametri che vedevate qui nella questa colonna però corretti con il B cioè con il bias sul butanolo ecco quindi si ottengono dieci differenze corrette la S-imp che abbiamo visto prima altro non è che sostanzialmente la media di questi risultati non è esattamente la media ma più o meno cioè è la media di queste differenze corrette in realtà questo approccio qua ha un altro vantaggio uno ovvio appunto come abbiamo detto quello di cercare di considerare nell'incertezza questo questo difetto di trasferibilità diciamo così fra il butanolo e gli altri odoranti l'altra cosa decisiva però che mi pare di aver scritto da qualche parte esatto qua la procedura in realtà è applicabile anche scegliendo uno durante il riferimento alternativo cioè la norma della versione futura aprirà il campo al fatto che ogni laboratorio possa avere uno o più odoranti di riferimento secondari facciamo un esempio se io in laboratorio in realtà voglio avere un'incertezza di misura più bassa per un gruppo di installazioni tutte appartenenti all'eccesso comparto che so allevamenti dove mi immagino che l'odoranti più frequente sia ammoniaca il mio problema sulla trasferibilità cerco di tenerlo sott'occhio in modo puntuale cioè misuro la soglia olfattiva dei miei esaminatori non solo se buttano ma anche per esempio sull'ammonia che quindi cerco di stringere questa divaricazione diciamo così per cui in realtà questa procedura permette e che consente anche di includere in certa stessa misura i casi in cui si vogliono diciamo così selezionare dei panel specifici cioè degli esaminatori specifici per un determinato tipo di odoranti di miscele di impianto diciamo così nella pratica o la conseguenza banale di tutto questo discorso è che come avete visto in realtà l'intervallo di copertura è intensamente asimmetrico per cui sarà impossibile esprimere l'interdessa di misura come CO più o meno U ma sul rapporto di prova ci sarà per forza da esprimere l'interdessa di misura come intervallo proprio cioè da A tipicamente appunto per le mille ragioni che vi ho detto se il mio bias è piccolo questo intervallo è più grande verso i numeri grandi se però ho una componente media del bias che è anche lei spostata potrebbe essere in realtà cioè considerate che ci sono questi due effetti diversi il fatto che il bias medio sposte l'intervallo e la U è asimmetrica per i fatti suoi diciamo così adesso ci spostiamo verso il discorso ok ma ammesso che io sappia abbia fatto valutare l'incertezza ammestesa di misura come esprima la conformità con valori limiti di emissione tipicamente perché sapete benissimo e adesso lo vedremo che questa domanda bisogna farsela insomma prima di farsi questa domanda una breve direzione sul discorso dell'arrotondamento senza inventarsi niente ci sono queste due linee guida una del european accreditation richiamata poi dal documento di accredia ora lo so che non tutti i laboratori sono accreditate però queste sono regole che valgono a prescindere dal fatto come si è accreditato o meno che dice attenzione se ho un'incertezza pari a x dove x abbiamo detto che è 20 30 40 50 cosa del genere non posso esprimere il risultato come 15 524 o o m3 cioè l'espressione del risultato deve essere compatibile con l'incertezza cioè devo arrotondare qua c'è un esempio specifico fatto dalla guida EA saprete benissimo trasferirla nel campo dell'olfattometria valori limiti di emissione allora non insegno niente a nessuno qua dicendo che la legge italiana prevede valori limiti di emissione solo per le emissioni convogliate sapete però anche tutti benissimo che l'olfattometria si fa molto spesso anche sulle emissioni che non sono convogliate e sapete forse anche che alcune autorizzazioni alcune regioni alcune disposizione prevedono valori limiti o cosa che ci assomigliano anche per le emissioni non convogliate questo pone un problema nel senso che l'incertezza di misura va valutata in entrambi i casi e quindi è una domanda che ci dobbiamo fare consideriamo però che laddove devo fare il confronto con un limite di emissione per un'emissione non convogliata dove la concentrazione è influenzata dalla portata di odore caso classico delle vasche no le vasche di depurazione una valutazione di incertezza di misura dovrebbe includere anche una valutazione dell'incertezza della portata di odore e degli effetti che questa ha sull'incertezza complessiva sulla concentrazione di odore risultante questo solo per dirvi che i discorsi che faremo adesso che sono ben strutturati sulle emissioni convogliate sulle non convogliate cominciano a scricchiolare perché fare una valutazione accurata l'incertezza associata anche alla portata di odore è pregio complicato per cui se voglio ottenere i criteri che vediamo adesso faccio fatica molto bandamente sapete che l'incertezza di misura secondo l'incertezza dell'incertezza di 25 va espressa per forza dove appunto ho il problema di confronto con un limite di specifica nel caso nostro con un VLE esiste già ormai dal 2009 questo documento di Ispra che è un bel riassunto diciamo così di quello che dice la guida Ildac G8 e altri documenti pertinenti che fa questo ragionamento più o meno consolidato insomma cioè il fatto che l'incertezza di misura debba essere valutata nella valutazione di conformità ad un VLE se il valore e tutta l'incertezza sono sotto il limite è conforme e non ci sono dubbi se il valore e tutta l'incertezza sono sopra il limite è non conforme e non ci sono dubbi i problemi sono casi in mezzo questa linea guida ragiona sul fatto che l'incertezza di misura sia o meno espressa e quindi ha delle regole su rapporti però voglio dire e quindi ha delle regole per stimare l'incertezza di misura qualora non fosse espressa diciamo così diciamo ragioniamo nel caso in cui l'incertezza di misura sia espressa quindi a quel punto dal risultato cioè se siamo tutti fuori è non conforme se tutto giù è conforme se è in mezzo è il famoso caso dubbio per cui bisogna approfondire di più eccetera eccetera cioè dove non è possibile esprimere una non conformità io sto ragionando adesso dal punto di vista dell'ARPA è consuetudine che il punto di vista del gestore dell'autocontrollo va visto speculare di là nel senso che un caso caso 2 caso 3 è un potenziale non conforme diciamo così quindi va approfondito però attenzione perché c'è un'altra complicazione sembrava facile fin qua un'altra complicazione è che in realtà tipicamente la concentrazione di odore da profondare col limite raramente è un valore secco singolo per i camini sapete bene che c'è il classico criterio delle tre repliche per i bifilt magari sono 4 concentrazioni 10 concentrazioni insomma tutti i casi possibili che faccio faccio il confronto c'è ciascuna ciod deve essere conforme prendo la media geometrica aritmetica prendo la mediana prendo la massima delle concentrazioni e confronto quella prendo le ciod pesate con la velocità di espulsione o la cosa che c'è scritta in una linea guida di una regione prendo in realtà le ciod della metà delle concentrazioni dove la velocità è maggiore cioè ora bisogna avere un criterio voglio dire soprattutto quando c'è di mezzo un sistema sanzionatorio dietro no? quindi il primo ragionamento è l'incertezza della media cioè se io ho più valori l'incertezza della media come è rispetto all'incertezza del singolo valore l'ipotesi più semplice è la stessa l'ipotesi più affinata ma attenzione va questa ipotesi si può fare solo nel caso in cui la media sia una media geometrica e quando si è verificato che la distribuzione è normale sull'acritmi o l'or normale allora in questo caso posso assumere che l'incertezza della media sia l'incertezza diciamo così quella standard diviso per radice di n insomma quella roba lì allora per avere quel criterio valutiamo che la media geometrica cioè dire che il parametro statistico più robusto sia la media geometrica quando ha più concentrazioni di una stessa sorgente è un'ipotesi verosimile cioè sostenibile se si assume se si è verificato che la distribuzione appunto sia la normale quindi se sia condizioni di ripetibilità stretta questo per esempio per capirci è più facile per un cammino se io faccio tre campioni uno dopo l'altro posso ammettere facilmente che sia una ripetibilità stretta se faccio 10 campioni sul biofiltro che sono belli sparpagliati come concentrazioni presi su punti umidi su punti più caldi più freddi a velocità diverse eccetera eccetera è difficile l'ipotesi di ripetibilità stretta cioè non è sostenibile come ipotesi e quindi in questi casi la media geometrica non sembra il parametro più corretto per fare la media in un caso più ampio diciamo così il numero più ampio di casi la media aritmetica può essere una soluzione perché non devo più fare l'ipotesi della ripetibilità stretta sulla fotometria però anche questo in molti casi non è se la dispersione delle concezioni è grande la mediana è generalmente non perché lo dica io ma perché lo dicono i libri sacri della statistica la mediana è un parametro più adeguato il problema qual è? che se io calcolo la media cioè se io calcolo la mediana poi qual è l'incertezza della mediana perché poi io il confronto devo farlo fra la mediana e il VLE e quindi gli devo associare un'incertezza è un bel pasticcio nel senso che è tutto altro che ovvio su questo ragionamento un caso il caso secondo me il più pestilenziale è il discorso dei biofiltri dal punto di vista della pratica statistica diciamo così perché i biofiltri aperti o meglio i campionamenti molteplici sui bifiltri aperti si fanno esattamente per verificare che l'emissione sia omogenea per cui non posso a priori assumere che le emissioni siano distribuite esteticamente se no cosa diavolo faccio della distribuzione spaziale su bifiltri e quindi secondo me conviene separare i due concetti una cosa è il monitoraggio molteplice plurimo su diversi punti per verificare l'omogeneità puoi dire se è omogenea allora faccio ragionamenti sul VLE non insegno niente a nessuno se dico che comunque sia se esiste una prescrizione che prevede che il bifiltro sia omogeneo e la verifica sia da fare secondo certi parametri il mancato rispetto di cui è usito è sanzionabile come ben sapete non è sanzionabile con il superamento del valore limite ma è comunque sanzionabile per cui secondo me dal punto di vista della tutela dell'ambiente comunque si può provvedere diciamo così si può provvedere contro l'installazione perché si adegui se evidentemente oh ecco l'ipotesi che fa facendo nomi e cognomi la linea guida della della Bruzzo cioè del 50% delle posizioni a 20 velocità maggiore è intelligente per carità solo che sul piano tecnico legale è discutibile nel senso che una sanzionare un gestore di un'installazione su questo criterio è un po' debole dal punto di vista statistico proprio molto spesso viene considerato come cioè quando le distribuzioni sono molto disomogene le distribuzioni delle velocità sul biofiltro una scelta che spesso si attua è fare la media delle concessioni pesata con le velocità non sto dicendo che sia la regola da applicare sempre cioè se la distribuzione delle velocità cioè se qualche parametro sul biofiltro mi suggerisce la distribuzione delle concessioni non è non ha la statistica classica una delle ipotesi è usare questa formula usarela come formula standard è una forzatura anche quella per capirci in ogni caso attenzione perché se la concessione media la calcolo così ritorno al problema di prima ma ci devo associare un'incertezza a questo valore quindi devo valutare anche l'incertezza della determinazione delle velocità come mi servirà per questo risultato eccetera Andrea come sei quasi finita quindi per finire allora abbiamo detto che la norma come adesso ammette indirettamente incertezze di misura fino a un fattore due o tre abbiamo visto anche che è però un'ampiezza così così ampia quando uno debba fare delle debba confrontare i risultati con un VLE potrebbe spessissimo avere dei non non conformi cioè dei valori delle valutazioni di dubbie e quindi un suggerimento che si può dare è che insieme al valore limite di emissione sia fissata anche la regola decisionale perché evidentemente diversamente l'applicazione di una sanzione è discutibile diciamo così abbiamo detto che nella norma futura si sta cercando di circostanziare meglio questo aspetto sicuramente non 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 sarà un lavoro perfetto perché di perfetto non c'è nulla però qualora nella norma futura come forse sarà definita una specie di incertezza di misura in termini numerici come target cioè un'incertezza massima accettabile è pari a questo valore per esempio potrebbe essere usato per definire la regola decisionale da affiancare al VLE nell'autorizzazione ho finito grazie grazie grazie